Movies Inspired Siete già in terza, è un anno davvero importante Professore, infatti, con questo suo nuovo bel taglio adesso sì che è un vero papino Beh, sul papino stiamo calmi, bello, perché ti ricordo che hai 19 anni Hai ripetuto sette volte e poi c'è tuo figlio che è nella classe qua accanto Ma però non è bello prendere in giro e poi non può farlo Beh, Saint Denis deve essere diverso da Roussillon, sei tu che hai scelto di venire qui, no? Sì, sì, ho sempre voluto lavorare come educatrice Ciao, Ionisse Ciao, Musta Mi piace quel piccoletto Io voglio essere alla mano, non c'è problema, sì, però non prendetemi i barucoli Coglione Coglione Ionisse, che speri di ottenere? Vuoi farti cacciare subito già dall'inizio dell'anno? Ecco, ti avverto, non te lo permetterò Hai preso una brutta piega ed è davvero un peccato perché io lo so che al contrario tu vale E se invece non fosse così? Ma professore, la matematica è già complicata con i numeri, poi lei ci mette le lettere È un tema oppure è matematica? Questa è matematica, sono le chiavi fra tutte le chiavi che proveremo a darvi perché voi possiate scegliere il vostro futuro Scherzi a parte, in questa classe lei vede dei contabili o dei banchieri Già siamo in una città squallida, in un quartiere squallido E voi che volete fare? Prendere dei fusi come noi e metterci insieme? Questo è il progetto per noi Essere a San Denis non è esattamente come essere altrove Sei arrivato tardi a causa dello sciopero? Sì, ce n'era uno Scioperava l'Air France e tu abiti qua accanto? No, è vero, ha ragione, ho un po' esagerato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti